Allora mister, volley fortissimamente volley possiamo dire, questa vittoria doveva arrivare la situazione di classifica si era fatta pericolosa, oggi non si poteva sbagliare. Sì assolutamente, hai detto tutto tu, per noi è una partita fondamentale, dovevamo assolutamente vincere, anche perché nelle tre partite precedenti del giorno di ritorno avevamo raccolto meno di quello che si era prodotto in campo, quindi questa settimana ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato in maniera dura, in maniera intensa e si è visto, poi in campo la squadra è stata concentratissima, ha voluto la vittoria, potevamo raddoppiare sul calcio di rigore e praticamente credo che il nostro portiere non ha mai fatto un intervento e questo la dice lunga perché di fronte avevamo forse uno dei migliori attacchi del campionato, ogni gara stavano facendo gol, Guaglieri, Naglieri, Galantucci, quindi siamo riusciti contro un attacco di questa fattura a non subire nemmeno un tiro in porto. Abbiamo visto non nervosismo ma molta ansia nei suoi giocatori d'attacco soprattutto in Santa Maria oltre che per Ciamonti, c'è proprio questa difficoltà a trovare il gol da parte dei suoi bomber si riflette forse anche sui risultati, magari trovando il gol sarebbero più sereni e verrebbe anche più facile a lei forse gestire tutto il gruppo a livello psicologico, ne parliamo ovviamente. Sì, oggi forse si vedeva ancora di più però è perché purtroppo i nostri attaccanti non segnano da tantissimo tempo, abbiamo un attacco per lo più sterile, per questo qui è l'undicesimo gol che facciamo in campionato, quando invece in fase difensiva ne abbiamo subito solo 13 siamo a oggi la seconda migliore difesa del campionato con una partita in più, io sto cercando di fargli capire che a me interessa la prestazione, mi interessa che loro facciano comunque una gara importante, una gara per la squadra, poi il gol prima o poi arriva, quindi diciamo che ci può anche stare questo nervosismo perché comunque lavorano tanto, fanno tanti sacrifici e il gol per loro manca da tante partite. Cosa dire, diciamo che è stato più bravo il serzale a controllarvi o il vostro attacco che ultimamente sta facendo bene oggi è stato un po' svogliato, un po' assente? No, è la verità che non siamo riusciti a giocare come noi siamo abituati a giocare, ho provato tra primo e secondo tempo a chiedere ai ragazzi di poter giocare palla a terra, iniziare da dietro però giustamente loro mi dicevano che non riuscivano anche in funzione del campo che non avevano una facilità nel controllo, nella gestione della palla e di conseguenza chiaramente con una squadra che ti dà pressione non è facile poi in un campo del genere riuscire a mettere palla a terra e a giocarla. Noi non siamo predisposti a giocare palla lunga e quindi di conseguenza ne è nata una partita che secondo me non è stata bellissima, è stata più sull'agonismo, è stata molto agonistica, tattica però nello stesso tempo non siamo riusciti a imprimere come solitamente siamo abituati il nostro gioco e quindi questo ne ha giovato soprattutto alla squadra avversaria che faccio i complimenti perché ha vinto meritatamente e nello stesso tempo ha impedito ai nostri attaccanti di poter avere quelle chiare occasioni che solitamente noi abbiamo sempre. Grazie a tutti!